I generatori di campo improvvisati potrebbero diventare un problema. Colpite i loro punti deboli. Il primo ordine dovrà vincere senza di più. 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 Abbiamo disattivato i generatori ma i sensori ne segnalano altri in attivazione. Attendete ordine. Entro in posizione. I generatori di campo nemici si stanno sovraccaricando. Concentrare il fuoco sui supporti interni. Potreste sfruttare gli effetti dei generatori a vostro vantaggio? Una tecnica ammirevole. Appena un gravio. La nave subisce danni. Ottima mira. Sgancio bombe sismiche. Obiettivo completato. Trasferite i miei crediti. progressi eccellenti. Progressi eccellenti. Passiamo a di più. Passiamo alla prossima. Passiamo. Passiamo. Adesso avete la mia attenzione. Le mie conduglianze. Complimenti. Adesso l'avete messa sul personale. Che provino a seguirmi adesso. Quel colpo è andato a segno. Li spazzeremo via. Non pensate di essere al sicuro, Lampietro. Provvedete al pagamento per i miei servigi. Appena un graffio. Tutti i generatori di campo fuori uso. Ora spoltite i cacciastellari della Resistenza. Sapete chi sono. Scudi dell'antibunker disattivati. È la nostra occasione. Complimenti. Adesso l'avete messa sul personale. Coraggio. Continuate a combattere. Dovevano assoldarmi prima loro. Vinceremo. Ci scommetto la mia reputazione. Gli affari sono affari. C'è un motivo se mi considerano il migliore. È giunto il momento dell'impero. Hai agito bene. Cannoni e a ioni attivati. Qui ho finito. C'è altro lavoro per me? Disparano. Non si farà più vedere. Il vostro successo è imminente. Raccropparsi e punire. Nave regge. Per ora. Uccisione confermata. La nave subisce danni. Sapete chi sono. Anti-bunker annientate. Quelli devono essere gli ultimi. Fuoco sui caccia-stellari nemici. Ora sono nostri. Non possiamo perdere. Distruggete i caccia-nemici rimasti e aprite un barco alla nostra flotta. Disparano. 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 Il nostro Dreadnought a campo libero. La base nemica sarà incenerita.